ma ciao buongiorno buon pomeriggio e direi pure buon allora eccoci qua ritrovati per un nuovo svuota la spesa ho fatto la spesa guardate cosa ho comprato intanto la c'è la confezione di acqua l'ho messa la così la vedete gli scontrini da qualche parte ci sono sono due perché avevano sbagliato a portarmi la spesa me l'hanno portata in due volte me l'hanno portata perciò e due scontrini comunque in tutto uno scontrino era 72 l'altro 20 ho speso sulle 90 euro più o meno due tre cosine non posso farvele vedere perché sono dei mukbang che devo fare perciò non ve li farò vedere comunque cominciamo con un svuota la spesa ragazzi fa freddo ormai è non autunno qua inverno stanotte c'erano 8 gradi praticamente inverno ma voi direte cosa ce ne frega sei qua per farci vedere la spesa cosa ci parli del tempo mica sei bernacca e avete pure ragione perciò andiamo con lo svuota la spesa allora ho comprato c'era l'offerta della pasta de ceco che io credo che sia la più buona meglio della barilla e perciò ho preso uno di allora ho preso uno di eliche uno di eliche che qua fusingi poi ho preso due di bucatini buonissimi buonissimi due di bucatini due di bucatini poi dovrei aver preso un altro pacco ma strada facendo lo troveremo poi ho preso un pacco di cracker pavesi poi anche questi erano in offerta sono i funghi i funghi misti non sono quelli champignon ma sono misti ci sono dentro chiodini che cacchio di funghi è che ci sono dentro qua chiodini finferli beh insomma funghi misti ecco erano in offerta questi non mi ricordo a quanto ma erano in offerta poi mi sono comprata anche questa era in offerta mi sono comprata la lasagna alla bolognese una sola era in offerta al 40 per cento credo di sconto 32 o 40 comunque 2 euro e 30 abbastanza poco dai 2 euro e 20 o 2 euro e 30 l'ho pagato di una di questa da mettere in frigo quando non si sa che fare poi ho comprato una di coca cola zero una di coca cola zero e una di di fanta e vai con vai con la prima borsa andiamo con la seconda allora ho comprato due pezzi di pane da mettere in freezer era un pezzo che non lo prendevo il pane perché non lo sto neanche più comprando perché vedo che mio figlio mangia anche cracker perciò il pane l'ultima volta ho fatto i cani darli col pane vecchio poi ho comprato un litro di latte alta digeribilità poi qua c'è una borsa vuota facciamo così poi ho comprato che era in offerta in offerta anche questo scontato ho comprato un chilo allora qua c'è scritto 17 euro e 26 però l'ho pagato con lo sconto alla cassa credo di averlo pagato sulle 13 euro più o meno credo e questo qua un chilo di formaggio 30 in grana stagionato 20 mesi dovrebbe essere questo 22 mesi comunque questo un chilo che così questo è buono sia da mangiare così che da ma da da grattugiare perciò un chilo di grana poi qua ho preso qua dovrebbe esserci dentro il pollo si un busto fuso non so se leggete qua c'è dentro un pollo intero che io sapete che li faccio al fornetto ad aria e vengono fuori meglio che la rosticceria poi ci sono una due e tre tre paste sfoglie chi fa il toto pasta sfoglia e il toto funghi ecco qua tre paste sfoglie che non mi ricordo se erano in offerta poi ho voluto comprare questi perché io credo che sono più di dieci anni che non li compravo no anche di più di dieci anni mi sa non compro mai dire la verità queste cose qua però erano sotto costo a un euro e non mi ricordo cosa perché i prezzi vi giuro non me li ricordo comunque erano sotto costo scontati del 40% credo e ho preso non mi ricordo se ne ho presi uno o due perché la lista gliel'ho mandata ieri comunque questi qua non mi ricordo manco se sono buoni però ho detto vabbè dai li tengo qua se magari non so che fare la sera ecco la ho un'altra allora ah qua c'è uno scontrino qua uno scontrino che questo è di 26 euro 26 euro e 80 l'altro non lo so dov'è poi ho comprato una due tre e questa dopo lo buttiamo nella carta tre io sto amando questi ragazzi li sto amando e me li sto comprando sempre che sono i mix soffio mousse di bianco più lamponi della muller sono la fine del mondo da una parte c'è la marmellatina la cosa di lamponi e dall'altra c'è la mousse muller ne ho presi tre a lampone l'altra volta li avevo presi alla fragola ma preferisco quelli al lampone ecco ma sono buonissimi cioè io quando voglio di qualcosa di dolce un dolcetto così invece di mangiare tante porcate mi mangio uno di questi che quante calorie hanno 138 calorie ma si dai ci sta piuttosto di mangiare una brioche mangio uno yogurt di questi e siamo a posto allora poi qua ho comprato una che apriamo una e una due banane meno male stavolta sono da mangiare subito eccole qua due banane ne ho prese due perché tanto le mangio le mangio solo io perciò poi ho preso uno due il solito mio tonno ho preso due due di tonno l'olio d'oliva poi ho preso questi che sono per il lato i denta stick che anche questi erano in offerta io ho preso uno di questi poi ho preso un pacco di pane per tramezzini uno e via ok poi ho preso non lo sai dire ma è andato di là e ho preso pure i biscotti il biscotto è già qua mamma mia l'appo ho sentito l'appo ma veramente se vengono i ladri non ti muovi però per i biscotti come corri dai vieni su se vengono i ladri non ti muovi per il rumore dei biscotti però due secondi è partito qua ha fatto la la gincana come si dice per venire allora poi ho preso fermo qua poi ho preso questo anche questo rosso ci sono molti sottocosti offerte queste due settimane dalla cop ho preso due di questi che sono comodi perché sono belli cicciotti poi sono belli pieni come la carta igienica regina regina è la migliore vedete che non sono quelli tipo questi cioè questi qua sono vedete ecco invece questi sono belli cicciotti ecco due di questi poi mi sono presa per me questo perché sapete che mio figlio ormai non sta mangiando più latticini da non mangia niente più di latticini da più di un mese e per quello anche che ho preso il grana perché il grana non avendo lattosio lo può mangiare non gli fa niente perciò ecco per me mi sorpresa una di queste che era in offerta un euro e non mi ricordo che 130 grammi fette morbidissime camuscio d'oro se proprio voglia di ma perché io formaggio proprio non è che ne mangio non è che non lo vado proprio a cercare il formaggio però lo tengo a fette che se voglio qualcosa ecco ce l'ho poi ho preso qua ho preso ah ok qua c'è dentro due eti e mezzo di bresaula che 8 euro e 8 euro e 43 di due eti no due eti e 6 di bresaula 8 euro e 43 poi ho preso del prosciutto crudo 6 euro e 14 di due eti e poi ho preso del cotto 4 euro e 20 di un eto e mezzo e questi li mettiamo in frigo poi ho preso ah eccoli qua altre tre di queste dei funghi dei funghi che ne ho prese quattro allora che sono sotto costo e anche qua abbiamo finito andiamo con fermoli non cadere non cadere bravo allora un pezzo di pane integrale questo me l'ho sorpresa per mangiare io perché sinceramente se sapete che io non vado matta per il pane non è che sto anche senza però se proprio devo mangiare un pezzo di pane preferisco mangiarlo integrale mi piace di più non so perché perciò me ne so presa uno di integrale anzi due eccolo qua che io li metto in freezer adesso li apro li taglio a metà faccio quattro pezzi li metto in freezer e quando voglio me ne tiro fuori uno poi ho preso una bottiglia di sprite mamma anche questa da quanti anni che non bevo ma è grande sta bottiglia un litro e mezzo vabbè questa qua è quella senza zucchero dovrebbe essere almeno sia basso contenuto di zucchero ok ho preso una sprite che era in offerta sotto costo anche questa e come ultima cosa ultima cosa un altro pacco di pasta di cecco mezze penne ecco se ho preso un po' ma ne comprerò ancora pasta di cecco finché è in offerta perché penso che sia la più buona meglio della sapete cosa vi devo dire una cosa e ascoltate bene questa cosa qua perché molti di voi non la sanno ed è molto importante saperlo non mangiate viustel viudi che sono stati fatti porca miseria non mi ricordo più l'ho appena letto comunque c'è una partita di viustel viudi che che è contaminata e sono già morte sei persone contaminate più di 60 credo ecco e la partita di viustel è quella fatta in settembre credo sia che scade a dicembre una roba del genere comunque magari dopo lo guardo e ve lo metto scritto nel primo commento nel primo commento vi metto la partita di viustel contaminati che non dovete mangiare se guardate nei vostri frigoriferi se ce li avete fatti in quell'asso di tempo li buttateli via non mangiateli perché veramente sono morte stanno morendo delle persone li stanno ritirando tutti dal mercato ok li stanno ritirando tutti dal mercato e stanno avvisando tramite i social che chi ha la partita di viustel di quel periodo lì di buttarli via di non mangiarli nel primo commento vi metto la data dei viustel che sono contaminati ok ecco di fatti io volevo comprarli perché vi dico la verità volevo fare un mukbang con i viustel e i crauti con la senape perché siccome che c'è l'ottoberfest qua e là non è un piatto tipico dell'ottoberfest volevo fare una cosa così una cosa simpatica e prendere i viustel viudi che sono praticamente gli unici che mangio perché io viustel non è che ne mangio spesso una volta li compravo vi ricordate che tutti i miei suota la spesa c'erano i viustel poi mi sono talmente nauseata che non li ho proprio più presi li ho presi tipo un mese fa più o meno per fare un video credo non mi ricordo ma non li sto prendendo più li volevo prendere per fare un mukbang per prendermi all'ottoberfest volevo fare viustel crauti e senape e bere insieme una birra delle non so quante che ho in frigo della degusta box tanto per fare tipo toberfest così poi ieri quando ho letto dei viustel contaminati mi è proprio passata la voglia di fare il mukbang con i viustel anche un'altra marca ho detto perché poi io sono fissata capito ho mille paure perciò ho detto banditi i viustel non li mangio ecco comunque nel primo commento vi dico la partita di quando è che sono contaminati lo so sono logoroiche questo doveva essere un video spesa perdonatemi però sapete che io sono così ma ragazzi vi saluto vi do appuntamento al prossimo video vi mando un bacio e e buona serata ma devo alzarmi e spegnere perché c'ho tutta la roba davanti ma ciao ciao